Nel bastone non esiste la mezza misura. Scopriamo perché. Il bastone è un'arma lunga. Assumiamo, generalmente, che sia un'arma rigida, quindi non flessibile, e sprovvista di elementi che possano tagliare o pungere. Assodato questo, il bastone è un'arma che è efficace entro un determinato raggio. Non è molto efficace a cortissima distanza. Non è molto efficace a lunghissima distanza. Per cui, senza andare a fondo in tecniche specifiche, se dovessimo tracciare delle linee generali, che poi sono quelle che funzionano davvero nella difesa contro bastone, due sono le possibilità. O stare molto distanti, ma davvero molto distanti, o stare molto vicini, ma davvero molto vicini, e risolvere dalla distanza in cui si è la situazione. Sì, se sei molto lontano, è bene che scappi. E chiaramente fammi sapere che ne pensi nei commenti. Mi piace sapere che cosa pensano gli altri di questi video, se sono stati utili, e chiaramente mi interessa anche avere opinioni contrarie. Infine, iscriviti e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e ricevere una notifica via mail quando un nuovo video è stato caricato. Grazie. 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 Grazie.